Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La tensione tra Giuseppe e Anita raggiunge proporzioni inattese, poiché la gelosia eccessiva del ragazzo mina la solidità dell'amicizia. Gli inquilini, incapaci di comprendere il suo comportamento, iniziano a nutrire sospetti su eventuali sentimenti più profondi di Garibaldi nei confronti di Anita, superando così il confine fraterno. Parallelamente, il bidello sta lentamente ricostruendo il legame con Beatrice, nonostante i mesi di distanza e ostilità che li hanno separati. Un'inaspettata gioia arriva per Paolo, che finalmente può riabbracciare la sua adorata mamma Sandra, di cui parla con affetto costante. Nel frattempo, l'esuberante Alessio vive un momento emozionante con suo padre Domenico. In questo periodo, Massimiliano mostra una reazione negativa alle nomination, scatenando animati scontri con gli altri inquilini. La sua esplosione contro l'intera casa non fa che accentuare i contrasti. Infine, l'atteso televoto svelerà chi tra Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona riuscirà a salvarsi. La suspense nell'aria rende l'attesa ancora più intensa, mentre ognuno lotta per la propria permanenza nella casa.